Ragazze, ho qui con me un video, un video che riguarda uno dei vostri fidanzati e non sarà un video molto piacevole, Dina, il filmato per te, guarda cosa ha combinato Enrique Iglesias Dimmi la verità, guarda che ora io mi sto incassando, tu non sai quello che sto soffrendo, sai che ci tenevo a quella lì Sientami, sei pieno di ragazze di fortuna, quindi anche se non te ne fai una Però non lo sbaglio, non vuoi far così Io stavo bailando, la stavo conquistando, quasi stavo chulando, oh no Tu mi stai colpando, non è come sta pensando, per così sempre c'era un Dio Uso il passato sì, dimmi che con tutti i posti me l'hai fatta lì, questo non mi gusta, questo non mi gusta Non la farei mai lì, credimi, se mi scappa l'improvviso e io faccio la cosa giusta, la faccio nella busta Sono pronto sì, entro ma adesso vengo a dirte quello che io sento, che sto soffrendo nella soledà Sai che tuo padre prima aveva nostri soli, io ho insistito ma lui no, è sfogato sul tuo cabello Lo stavo cambiando, il mio pacco gonfiando, io già stavo sperando, oh no Te stavamo abusando, ma che fisse sperando, sa che morì cagando, oh 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 Allora io senti, dai senti, una puzza provenir da che forse c'è una mucca o era la tua bocca E se io senti, siamo qui, credo forse che scappare dai sarà la cosa giusta Prima che te buscare Ora che siamo qui, soli si, prova a mettertelo anche tu vedrai che te gusta Perché a me me gusta Eh, capito? E io scema che gli ho pagato pure un corso di spagnolo a Bari a questo Ladies and gentlemen benvenuti a bordo del nostro video Grazie per aver scelto la Leonardo Fianschi Airlines Vi invitiamo quindi a condividere e a mettere mi piace qua in fondo Più giù, bravissimo dove sta indicando lo steward, perfetto Inoltre iscrivetevi ai nostri canali seguendo le uscite di sicurezza Beh, invece il video non è stato di vostro gradimento Potete utilizzare gli appositi sacchetti ubicati sotto il vostro sedire Stiamo per atterrare, vi invitiamo a rimanere con noi e attendere il prossimo video Intanto allacciate le cinture e indossate il cappelletto di sicurezza E non so voi, ma io mi sento una bella persona, arrivederci